Cari amici ben ritrovati da Giuseppe De Vettis, cari amici di Agronotizie, tendenza per i prossimi 15 giorni ci sarà lui il ritorno del caldo, il ritorno dell'anticiclone africano, il ritorno a temperature oltre la media soprattutto dall'11 in poi al nord, poi al centro dal 12 e dal 13-14 anche al sud il 13 un po' di instabilità sull'arco alpino ma negli altri giorni e su tutto il resto del territorio come detto preparà il sole, poche le nuvole che si vedranno in questi 15 giorni e bel tempo e con temperature che aumenteranno sempre più e si avvicineranno, supereranno si avvicineranno ai 35 gradi, supereranno i 35 gradi e sarà di nuovo davvero piuttosto caldo con picchi anche oltre ben oltre i 35 gradi centigradi insomma si tornerà a fare di nuovo sul serio una nuova ondata di caldo abbastanza intenso arrivederci